Inaugurata a Padova la cucina mobile, un camioncino che permette di consegnare anche 100 pasti caldi ai bisognosi. Nei prossimi mesi, mesi invernali, questo food truck girerà per le strade della città, supportando il lavoro dei volontari di strada. Su teatro di un food truck ha disposizione dei senza fissa dimoria della nostra città. Ogni sera potrà partire ed elargire pasti caldi, questo molto importante in vista dell'inverno, per dare ristoro alle persone meno fortunate di Padova. Noi sappiamo che Padova è una città molto accogliente, molto solidale, sono tante le associazioni e le realtà che ogni giorno ci aiutano in questa importante opera di accoglienza e solidarietà nei confronti delle persone senza fissa dimora. Ecco, questo food truck sarà anche a loro disposizione grazie al coordinamento della cooperativa COSEP. L'esperienza nata a Milano si è diffusa grazie all'Associazione Arca in tutto il territorio nazionale. Nasce da un'idea di un volontario durante il lockdown, quando tutte le mense hanno chiuso, sappiamo che nessuno poteva uscire, neanche i volontari, e abbiamo trovato persone che non mangiavano da quattro giorni in strada. Allora abbiamo pensato di portare la cucina da loro. Tutto questo ce lo permetteva il distanziamento del covid ed è piaciuto talmente tanto e senza dimora che abbiamo deciso di proseguirlo. La finalità principale è quella di aiutare chi è senza una casa a inserirsi nuovamente nella società. Accoglienza ma soprattutto relazione perché la cucina mobile vuole essere il primo aggancio per proseguire il lavoro sull'integrazione perché sappiamo che solo il pasto non può essere risolutivo, però è sicuramente fondamentale per l'aggancio. C'è poi l'integrazione lavorativa e abitativa che è ovviamente l'obiettivo finale. Grazie a tutti.